La Gatteria L'Estate vi presenta questa villetta a camere. Villetta costruita nel 2008, disposta su due livelli, con un bellissimo giardino di circa 150 metri quadri. Classa energetica B, riscaldamento a pavimento, infissi, doppi vetri in legno, zanzariere. Questa soluzione ha tutto quello che deve avere una casa indipendente. Il box è di circa 35 metri quadri, con una cantina che può essere una taverna di 20 metri quadri. Presenta anche un portico collegato alla cucina, molto comodo per chi vuole mangiare all'aria aperta. All'interno abbiamo la zona giorno, con scala a vista che ci porta alla zona notte. Il primo bagno, con doccia. Un antibagno, utile come ripostiglio. E la cucina abitabile, con un bel soffitto in travia vista. Collegata al portico, che è di circa 10 metri quadri. La scala, il legno, ci porta alla zona notte, dove abbiamo due camere e il bagno. Il secondo bagno, alla vasca. Camera matrimoniale, con climatizzatore e soffitto travia vista. Ed infine, la cameretta. Sempre con soffitto travia vista, che è una particolarità della casa. Questa soluzione è pronta per essere vissuta. Vi aspettiamo per visionarla insieme. Un saluto da Mauro.